Ingenti i danni alla darsena marina situata alla foce dell'Adige, qua l'acqua del mare ha fatto irruzione con violenza, colpendo le strutture della darsena, ma soprattutto le imbarcazioni che vi trovano ricovero. L'energia delle onde le ha schiaffeggiate, facendole sbattere le uno contro le altre, causando per ciascuna danni ingenti. Oggi c'era chi guardava sconsolato la violenza del mare incunearsi nell'asta del fiume, coinvolgendo ciò che trovava nel suo percorso, non potendo fare nulla per porre rimedio, solo aspettare che la potenza scemasse. Incluso il titolare, che tristemente, guardando la situazione e vedendo ciò che resta della sua darsena, ha affermato che della stessa resta gran poco di buono, anche se nella confusione e nel marasma dei detriti non si riesce ancora a quantificare i danni subiti, ma sono parecchie le barche che sono state colpite. Grazie 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 Grazie